Ecco Samukasti, ecco Samukasti che se ne va, palla messa in mezzo, sul secondo palo, arriva il tiro da Lola, deviazione da parte di Echka, grande occasione Mina. Ecco Jespeter che salta un avversario, attenzione Jespeter, meraviglioso, lo ha rifatto, lo ha rifatto, lo ha rifatto, tunnel e gol, tunnel e gol, Jespeter aughe. Tunnel, prezioso su Wessner e poi Mira, freddo, lucido, preciso, sul secondo palo, alla sinistra di Echka. Ecco Aughe, 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 era di rigore, Aughe, tunnel ancora, ehi, si è disinteressato della palla, si è disinteressato della palla. Castiglieco, 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 stava per fare il secondo, grandissima azione di Samukasti. Polidar che va al cross di sinistro, eccolo qua, il tiro, la grande parata di Tatarusanu, bravo Ciprian. Grande giocata di Raffaellino Leao, ecco Raffaellino Leao, brutta entrata di Plukacchki, che fa un fallo volgare, rosso, rosso, di Pleskati. È un fallo, secondo me poteva starci anche il giallo. Guarda, guarda, Mober Karlsson, non ci credo. Grande Tatarusanu, grande Tatarusanu, grande Tatarusanu.